Buonasera e benvenuti. Nella puntata di oggi vi parleremo dell'Homus Mestrinus, una specie che gli scienziati ritenevano estinta ma che, come la storia insegna, continua a riservarci delle sorprese. Ci troviamo in una delle zone più suggestive dell'antica Mestri. Questi sono monoliti antichissimi che testimoniano l'esistenza già all'epoca di architetti esperti. Pensate, qui attorno si estendeva un'immensa palude e milioni di anni fa tutto ciò non esisteva. Tutto era ricoperto da un'enorme distesa d'acqua. Poi, lo ricordiamo, c'è stata per secoli la dominazione veneziana. La Serenissima ha sempre avuto un'influenza determinante su Mestrinus, tanto schiacciante che veniva usata esclusivamente per i propri fini commerciali di scambi con la terraferma. Ecco, quando ormai non si trovarono più tracce dell'Homus Mestrinus, una specie che ricordiamo essere endemica come ad esempio alcuni primati del Madagascar, gli archeologi hanno portato alla luce qualcosa di straordinario. Dunque, andiamo a riscoprire questa meravigliosa civiltà. Varie ipotesi sono state vagliate dagli scienziati per spiegare come abbia fatto l'Homus Mestrinus a stare al passo con i ritmi frenetici della modernità. Ritenuta ormai una specie estinta, recenti ritrovamenti archeologici hanno portato gli studiosi sulle tracce dell'antica Mestrius, individuata in questa zona del Veneto ai margini della laguna. Essi cercano ora di capire come abbia fatto l'Homus Mestrinus a celarsi, facendo credere addirittura di essere estinto. Probabilmente uno stratagemma dettato dalla sua incredibile capacità di adattamento che gli avrebbe garantito così la sopravvivenza e la conservazione della specie. Ma ha più di ogni altra cosa a come egli affronterà la sfida dell'evoluzione per misurarsi con i cambiamenti futuri. È incredibile, sembra che il tempo si sia fermato. Tra poco ci imbatteremo in alcuni esemplari in carne ed ossa. Noi ve ne mostreremo in anteprima le immagini. guarda, si muovono in baranchi. Ellie, possiamo anche bruciare il manuale sui sauri a sangue freddo. È completamente sbagliato. Questa è una creatura a sangue caldo. Non può vivere in una paloda. Cerchiamo di scoprire insieme alcuni aspetti fondamentali della vita sociale dell'Homus Mestrinus. Alle prime luci dell'alba, gli esemplari femmine escono dalle loro tane per procacciare il cibo per il maschio e i cuccioli. Come accade anche per altre specie, la femmina non agisce in branco, ma al contrario cerca di affermare la propria superiorità di intenti sulle sue simili, al fine di aggiudicarsi le prede migliori. Ne nascono degli scontri all'ultimo sangue. Forse, proprio perché è uscita sconfitta dallo scontro, ribadisce con determinazione la sua superiorità su altre specie, palesemente inferiori, per poi rituffarsi nella quotidiana lotta per la sopravvivenza. La nostra scontri all'interno è liberata. I giovani esemplari si riuniscono abitualmente nelle ore pomeridiane, quando la calura si è attenuata e permette loro di uscire indisturbati dalle tame, senza pericolo di predatori in agguato. Uno dei rituali più caratterizzanti che affonda le sue radici in tempi antichi è quello dello spritz, composto corroborante a base di alcol dalla funzione sociale aggregativa. La sua ricetta è avvolta da un'aura di mistero e si perde nella notte dei tempi. Si sa solo che è un ardito miscuglio alchemico creato da chissà quale mente geniale del passato. Il giovane esemplare maschio, forte del momentaneo senso di euforia e dell'allentamento dei freni inibitori, cerca una compagna con cui accoppiarsi. La scelta è molto varia, ma non sempre si ottengono risultati positivi. Quando finalmente trova la femmina che risponde alle caratteristiche genetiche preferite, può iniziare il corteggiamento. Dapprima con una fase di studio in cui i due prendono confidenza l'un l'altro, poi con il vero e proprio accoppiamento. Dapprima con una fase di studio in cui i due prendono confidenza l'un 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 l'un. Dapprima con una fase di studio in cui i due prendono confidenza l'un 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 l'un. Dapprima con una fase di studio in cui i due prendono confidenza l'un 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 l' Beh, già i cambiamenti degli ultimi anni hanno dimostrato ampiamente che si sta seguendo una direzione precisa. Dal punto di vista urbanistico, ad esempio, sono state create nuove aree verdi, nuovi quartieri, nuove strutture. Pensate che la strada su cui sto camminando ora un tempo era attraversata da un corso d'acqua. Più recentemente è stata interrata e abbandonata al volgare flusso del traffico. Ora guardate un po', una zona più a misura duomo e più vivibile. Ma Mestre non è solo contesto urbano. Certo, la riqualificazione dei quartieri che hanno attraversato decenni di degrado e quelli creati ex novo ha contribuito a darle un aspetto più umano, ma il vero cambiamento sta avvenendo dal di dentro. È proprio l'apertura delle coscienze verso le frontiere della globalizzazione ciò che sta permettendo all'Homus Mestrinus di venire proiettato verso una nuova era di prosperità e ricchezza, soprattutto interiore. A mio piacere, manda mia mamma vai tu, se no vai tu in macchina prendendo un polistirolo e dietro nel bagagliaio c'è una presa, una spina, un cavo lungo. C'è un po' di vento di troppo, comunque ho fatto un po' di riprese. Il nostro viaggio finisce qui, non a caso visto che il luogo dove ci troviamo ora rappresenta in qualche modo lo sguardo di Mestre verso il futuro, anzi lo sguardo di chi Mestre la abita, di chi Mestre la vive. Il nostro viaggio finisce qui, non a caso di Mestre la abita, di chi Mestre la nasce e vào Österreich. La abita, di chi Mestre 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 la